Silvigenesi, parolaccia. Genesi cosa vuol dire? Nascita. Nascita? Solo nascita? Origine? Sì, sì, in parte, ma manca qualcosa. Formazione? Formazione, ecco, già, in cui c'è sicuramente un'origine, c'è una nascita. Genesi è questo in qualche modo anche evoluzione, in senso di cambiamento attraverso fasi. E la parola Silvi davanti ci fa capire che con Silvigenesi, quindi, stiamo parlando di un insieme di processi che caratterizza le formazioni forestali. Processi che vanno, vediamo se parte, processi che vanno dalla nascita e fino alla morte. Non tanto nascita e morte del bosco, attenzione, ma nascita e morte degli individui che, diciamo così, sono presenti in un determinato momento nel bosco. Cioè, noi di questo concetto di Silvigenesi forse lo comprendiamo bene se pensiamo per un momento a una formazione forestale, diciamo così, semplificata. Poi dopo ci possiamo aggiungere tutte le varianti e le complessità del caso. Pensiamo a un esempio estremamente sciocco e stupido, ma di questi tempi anche che potrebbe andare di moda, visto che tutti vogliono piantare alberi, vogliono piantare boschi. Pensiamo di avere un pezzetto di terra, scusate io faccio questi esempi proprio molto banali, ma per essere sempre molto chiari. Poi, noi abbiamo a disposizione un piccolo fazzoletto di terra, un ettaro, mille metri quadri, quello che sia, e mettiamo a dimora delle piantine. Facciamo anche la cosa più semplice, la stessa specie, mettiamo i nostri frassini, o i nostri pini, o i nostri abeti, a seconda di dove ci troviamo. Ok? Non ci preoccupiamo del sesto d'impianto adesso, poi ne parleremo di questo. Ok, ovviamente se noi mettiamo delle piantine, la nascita c'è già stata, perché il seme è stato fatto in bevai. Ok, poniamo che di mettere addirittura il seme, se vogliamo, semi in aspaglio. Una volta si facevano così i rimboschimenti, c'era il seme, si prendeva il seme dalle piante, si metteva a spaglio e si sperava che venisse. Se ne metteva tanto, in modo che, e questo è stato fatto per secoli, anche fino al Medioevo, ma anche più avanti in alcuni casi, la semi in aspaglio è stata una delle tecniche di rimboschimento che veniva abbinata, in alcuni contesti, all'impianto utilizzando materiale di vivaio. Quindi, ok, poniamo che questi semi, quindi, o queste piantine che abbiamo messo in campo, abbiano tutte la stessa età, o nascano tutte insieme, fondamentalmente, ok? Ecco, il nostro concetto di silvigenesi ci deve orientare in un processo che va, appunto, dalla nascita di questa cenosi, artificiale in questo caso, all'accrescimento progressivo, a tutte le dinamiche che cominciano ad avere luogo subito dopo la nascita, e fino ad arrivare a, in qualche modo, punto massimo, cioè questo ettaro, questi mille metri quadri di terreno possono garantire la sopravvivenza di un certo numero. Se noi piantiamo 10.000 piantine all'ettaro, e ci stanno 10.000 piantine all'inizio, ma man mano che queste piante crescono, poniamo che nessuno le tolga, non ci sia nessun disturbo particolare, a un certo punto queste cominciano a darsi fastidio, lo spazio mancherà, e comincerà quel processo, vi ricordate, di diminuzione numerica. La massa che aumenta è la diminuzione numerica degli individui. E a un certo punto arriveremo a un punto massimo, cioè le risorse del suolo e le risorse del clima, quindi la disponibilità pedoclimatica, a un certo punto farà sì che più di tanto, un po' per le caratteristiche della specie, ma un po' anche proprio per le caratteristiche della fertilità del suolo, queste piante non possano crescere. Quindi arriveranno numericamente o in termini di massa ad un massimo, e poi andranno piano piano a decadere, normale. Quindi se noi volessimo fare un ragionamento, adesso la solita pennina, soliti assi, tempo, qui potremo avere il numero di individui oppure il volume, quindi metri cubi o tonnellate di fitomassa. Questo è il nostro punto di origine in cui noi facciamo l'impianto. Cosa succede? Volessimo rappresentare questo processo in termini quantitativi, che tipo di curva ci verrebbe fuori, secondo voi, da quello che abbiamo detto? Forza, qualche spunto. Gaussiana? Una gaussiana, dice lui. Gli altri sono d'accordo o hanno qualche idea alternativa? Qualche variante? Cioè lui dice che succede qualcosa del genere. A parte questa gobba qui mia, è un errore mio. Siete d'accordo con questo andamento? Cioè qui abbiamo il tempo, quindi gli anni da zero. Ognuno metterà un valore in funzione, se stiamo parlando di sequoie, possiamo arrivare a 2-3 mila anni. Qui stiamo parlando di evoluzione naturale, non altro. Magari questa curva potrebbe essere anche così, o potrebbe essere a seconda dell'andamento anche così. Però vi torna? Cioè noi abbiamo parlato di una fase iniziale, di nascita, germinazione, poi abbiamo parlato di accrescimento, abbiamo parlato di una fase ottimale, abbiamo parlato di una decadenza. Fino, teoricamente, quando tutti gli individui, da come parlano queste curve, tutti gli individui hanno raggiunto via via nel tempo, non so se vi ricordate, avevamo visto quel grafico di come varia la longevità delle specie vegetali rispetto a una popolazione animale, umana, insomma, e di fatto l'ultimo individuo, il più vecchio, dopo mille anni, crollerà e quella generazione, questa popolazione, in termini numerici o in termini di volume, si sarà, diciamo così, estinta. Vi torna? O no? È giusta l'ipotesi di Chiara, Tommaso? No, ero io, però. Ah, eri tu, eri Francesco. Eri tu. Secondo me, sì, è giusta. È giusta? Torno. Torna. Ok. Tutti d'accordo? Sì, magari non proprio gaussiana, però sì. Magari non proprio gaussiana, cioè? Come la vedi? No, magari mi aspettavo che ci fosse a un certo punto un appiattimento un po' più lungo, la stabilizzazione e magari un decadimento un po' più graduale, magari. Più lungo questa fase qua? Sì, e anche dopo il declino, insomma, un po' graduale, magari. Un po' più lento, certo, certo, questo io ho disegnato un po' la difficoltà, un po', certo, qui possiamo avere molte possibilità a seconda delle specie, a seconda del contesto, ecco, però penso che siamo d'accordo nel vedere questo. È chiaro che questo non vuol dire che il bosco scompare, ok? Cioè, io ho detto, vediamolo in un'ottica semplificata, il nostro rimboschimento che cresce tutto insieme, si riduce numericamente, ma aumenta a livello di volume, noi sempre di più, ora parleremo più che di numero di piante, parleremo di volume di piante, di volume, di massa, di massa espressa anche in termini di tonnellate di sostanza secca o sostanza fresca, se non vogliamo solo parlare di legno, ok? Perché ci spiega meglio un po' le cose? Perché abbiamo visto proprio che c'è questa relazione inversa fra numero sempre decrescente di individua, cioè quando noi arriviamo qui al top, se lo pensiamo in termini di volume, siamo nel periodo di massimo, che sia un periodo massimo lungo o un periodo massimo breve, noi lì abbiamo già una riduzione numerica, cioè per arrivare in termini di massa ad esprimere questa massima condizione, condizione ottimale, il numero di individui si è abbassato, noi siamo passati dalle migliaia di individui iniziali alle centinaia, ok? Abbiamo sempre detto che a maturazione, in condizioni di maturità, una fustaia non ha più di 300-400 piante ad ettaro, quando magari all'inizio ne aveva non dico migliaia, ma anche decine di migliaia in contesti naturali, come vedremo, ok? Quindi questa è l'idea diciamo così di silvigenesi e all'interno di questo processo vedremo che quelle parole che noi abbiamo detto, cioè fase giovanile, fase di accrescimento, fase ottimale, fane di senescenza, decadenza, eccetera, poi avranno dei nomi ben precisi in servicoltura, perché noi cercheremo di seguire questi processi all'interno di un popolamento forestale e cercheremo non solo di dargli il nome, ma di individuare l'opportunità di fare o meno degli interventi, interventi che saranno diversi nelle diverse fasi, cioè quello che io faccio in condizioni di maturità assume un nome, assume il nome di taglio di rinnovazione, che poi io lo faccia col taglio a raso, con i tagli successivi o d'altro, quello è un taglio di rinnovazione. Quelle operazioni culturali che io faccio invece quando il popolamento non è arrivato alla maturità o al massimo della sua potenzialità, ma è ancora in una fase di accrescimento lo vado a individuare sotto, diciamo, in base al momento in cui mi trovo con degli interventi specializzati, specifici, che sono per esempio le ripuliture nella fase di rinnovazione, gli sfolli, come vedremo poi nella fase diciamo così di giovanile, di grande accrescimento ancora numerico, nel momento in cui si va a saturare il sistema ancora giovane, cominciano quindi le prime, la parola sfollo ci fa pensare a un affollamento, pensate a queste piantine che non sono più piccolissime, che hanno già qualche metro di altezza e hanno una chioma che si è comunque potuta espandere e che cominciano a toccarsi e quindi comincia la concorrenza, ecco, lì faccio degli sfolli, le piante poi crescono ancora, ci saranno quelle che crescono di più, quelle che crescono di meno, le dominanti, le intermedie, le dominante e lì vado a fare i diradamenti, sono sempre in una fase preliminare rispetto a quella diciamo ottimale in cui l'eventuale intervento, poi lo vedremo, lo giustificheremo che andrò a fare, è un taglio di rinnovazione, cioè è il momento in cui io sono, il popolamento è pronto per rinnovarsi e lo farebbe anche naturalmente come vedremo, solo che lo farebbe in modo diverso, più lento, perché da qui in avanti questa massa totale, questa saturazione del popolamento, scusate il pasticcio ormai che c'è nel disegno, ma in questa fase central, diciamo ottimale, io ho la massima copertura, dopodiché con l'inizio della decadenza e della senescenza questa copertura viene a meno e proprio approfittando di questa copertura che viene a meno si andranno ad inserire altre popolazioni, perché tutto il seme che proviene da qui o dalle zone vicine che hanno disponibilità di spazio cominceranno ad entrare, quindi ecco che questo ci fa capire che il bosco non si perde, è la popolazione che comincia, questa popolazione che è una popolazione, noi stiamo parlando qui di un bosco coetaneo o disetaneo? Domanda a cui segue risposta. Stiamo parlando di un bosco coetaneo, l'abbiamo detto, partiamo da una condizione semplificata, qui siamo in una condizione di coetaneità che ci porta a una in condizioni di naturalità ad una diciamo progressiva entrata di un altro popolamento che va a sostituirsi a quello piano piano a quello che sta decadendo e se ne sta andando. Quindi dentro questo processo di silvigenesi che è un processo naturale fondamentalmente noi cerchiamo con la silvicoltura di inserirci portando tutta una serie di interventi di azioni che servono in qualche modo a guidare il bosco verso quegli obiettivi che ci siamo posti che la società si è posto è un bosco di produzione legnosa ok allora farò degli interventi è un bosco che devo preservare per motivi naturalistici ne farò altri con altri scopi come poi vedremo ok quindi questo è il diciamo il contesto in cui andiamo ad inserire la nostra servicoltura bene per partire dobbiamo sempre mantenere in testa quel concetto comunque che i boschi sono diciamo così molto più complessi e molto più esposti a disturbi rispetto a quelli che possiamo diciamo così immaginare quando facciamo queste così simulazioni che tendono ad essere sempre abbastanza semplificate ma ecco e quindi quando pensiamo a questo dobbiamo sempre riferirci io qui adesso non vi rifaccio la pippa delle successioni ma sempre pensare che ecco noi siamo in un contesto dinamico ed è chiaro questo che noi quando abbiamo le volte scorse parlato di successioni ecologiche primarie o secondarie che siano abbiamo sempre visto che questo percorso diciamo che va dal terreno nudo fino alla sua ricopertura è un periodo molto lungo se siamo in una successione primaria è un periodo più breve se siamo in una successione secondaria ma tendenzialmente il sistema tende a ricostituirsi verso quello che è diciamo così lo stato climax lo stato diciamo così più la condizione migliore più adattata ecco quando noi pensiamo alla silvigenesi non dobbiamo confonderla con la successione ecologica ma dobbiamo pensare che con la silvigenesi noi ci troviamo qui tendenzialmente o al massimo qui ok quindi abbiamo questo è il contesto siamo già nel bosco ok quindi l'arbustetto la prateria che derivano dal disturbo le abbiamo già superate quando noi e appunto questo per far capire qual è il contesto della servicoltura eh il contesto della servicoltura è garantire eh un equilibrio una produzione una multifunzionalità questo lo decideremo eh o lo decideremo insieme con la società con il mercato con eh qualunque sia il diciamo il proprietario del bosco con cui ci riferiamo e lì dentro noi agiamo quindi tutte quelle fasi che di cui abbiamo parlato così in maniera adesso molto generale si svolgono qui dentro quindi siamo in un percorso che è più limitato qui dentro noi facciamo i nostri diradamenti dei nostri sfogli i nostri tagli di rinnovazione e dobbiamo garantire questo è il punto importante di non fare regredire il sistema eh possiamo farlo tornare leggermente indietro ma il nostro obiettivo come servicoltori non può che non essere il mantenimento del bosco quindi mantenere assolutamente quindi la continuità di rinnovazione ok questo è il punto importante la servicoltura questo fa deve fare se fa qualcosa d'altro sta sbagliando non è servicoltura è utilizzazione è saccheggio è qualsiasi parola noi siamo qui non dobbiamo permettere al bosco di tornare qua perché questa è una perdita noi stiamo qui dentro ok quindi molto importante mantenere questo concetto di disturbi perché disturbi ci sono disturbi naturali noi possiamo mettere tutte e programmare tutte le nostre attività servicolturali io faccio questo farò quello dopo dieci anni faccio gli sfogli dopo venti faccio il primo diradamento secondo diradamento tagli successivi e quant'altro ma poi se mi arriva il disturbo devo ragionare quindi anzi oggi quello che ci chiede la società è di trovare una servicoltura resiliente cioè una servicoltura che sia in qualche modo pronta a creare delle strutture perché di questo parliamo la servicoltura va a modificare la struttura del bosco non tanto la composizione o quantomeno in parte ma la struttura sicuramente sì e quella noi la dobbiamo diciamo garantire in modo tale che possa eventualmente anche reagire o resistere o meglio ancora essere resiliente a una dinamica come quella che vedete qua questa specie sembra quasi un filmato noi andiamo dall'alto al basso qui è tempo ok qua su abbiamo ovviamente come capite non siamo nelle nostre latitudini lo vedete da queste diciamo così assetti un po' misti tropicali se vogliamo comunque di ambienti semi aridi perché qui quello che capite cosa è successo questa è una situazione pre disturbo qui abbiamo il disturbo fuoco e che fa questo è un cosiddetto stand replacing fire stand replacing vuol dire che praticamente va ad utilizzare tutto ciò tutto l'intero popolamento stand è popolamento ok le piante rimangono in piedi queste al 99% sono piante morte il cambio è stato bruciato perché il fuoco è arrivato all'interno ha superato la corteccia però vedete che nel giro di veramente pochissimo queste sono proprio immagini sequenziali di un anno dopo l'altro vedete com'è diciamo così rapido il percorso qui chiaramente il disturbo ci ha portato indietro questa è una silvigenesi diciamo ancora cioè non siamo nella silvigenesi ma siamo nella successione secondaria successione secondaria che abbastanza rapidamente vedete che nel giro di 4 anni praticamente ci riporta una condizione molto simile a questa questo probabilmente anche perché ci sono dei sistemi che sono più tolleranti del fuoco e riescono diciamo così a reagire rapidamente lo vedremo vi ho promesso ve lo faccio l'ho dovuto spostare un po' per motivi organizzativi ma ho detto che dedicherò una puntata magari anche con l'aiuto di uno dei ragazzi che si sono occupati proprio specificamente di fuoco cioè il dottorando Francesco Malandra e vi parleremo appunto un po' di quello che succede con il fuoco nelle diverse condizioni e anche un pochino di quello che si può fare da un punto di vista sericolturale per contrastare questi fenomeni ovviamente noi li riporteremo a dare più simili a noi quindi disturbi e perturbazioni sempre a mente e ricordate che quando si parla di disturbo chiaramente la severità l'intensità e la frequenza danno luogo a quella che è la severità del disturbo qui capite bene l'effetto anche qui è un altro stand replacing fire in questo caso molte piante sono andate anche a terra perché ragioni o perché ci sono stati comunque eventi meteorologici quando una pianta è morta in piedi può stare in piedi anche 50 60 anni ma vento neve o altro può finire a terra rapidamente questo è qualcosa del genere che è successo al Vesuvio e queste sono questa è una pineta una pineta di pino nero prevalentemente che cioè quello che sembra neve in realtà è cenere non è una visione invernale è una visione di poco tempo dopo l'incendio del 2017 la severità ecco giusto per forse ne avevamo accennato ma ecco di nuovo l'importanza anche della del telerilevamento per valutare anche gli effetti di questi disturbi qui per esempio con i diversi colori cosa vediamo vediamo le diverse intensità di di disturbo ovvero dell'incendio le zone nere sono quelle con la severità alta cioè dove la vegetazione è bruciata di più perché? perché questi indici che cosa fanno? pensate a quell'NDVI che abbiamo visto ecco questo c'era rimasto sospeso dalle domande era una delle domande quell'NDVI cioè quell'indice di greenness cioè delle condizioni vegetative ecco confrontando un'immagine e sono veramente disponibili in vari momenti della giornata prima subito prima e subito dopo l'incendio attraverso dei calcoli diciamo così anche tutto sommato non così complicati si arriva a vedere proprio questo cioè com'era quella copertura prima che tipo di riflettanza mi dava che tipo di riflettanza mi dà dopo l'incendio allora io vado a vedere quali aree hanno no una vegetazione ancora completamente bruciata e non in fase di rinnovo e altre invece che magari tipo queste verdi che non sono state toccate queste piccole zone verdi probabilmente arroccate il fuoco non è arrivato in qualche modo oppure dove già dove poco tempo dopo si è già avuta una una ricrescita se vogliamo non del bosco ma magari ma della vegetazione erbacea perché ricordate bene che l'NDVI vi dà la riflettanza in funzione dello stato vegetativo di quello che c'è voi avete eliminato un bosco però subito sotto riparte la vegetazione erbacea ecco che magari l'intensità di disturbo non vi appare così forte ok non so se rendo l'idea poi vi faremo vedere qualche esempio preciso funziona vado sì ok vabbè sempre ecco per esempio ecco questo discorso qui giusto io cerco sempre di farvi questi esempi applicativi cioè questo nero che noi vediamo o questo rosso cioè le severità un pochino più forti dove sono avvenute cioè dipenderà anche da quello che c'è non è una copertura indifferenziata lì sotto cosa c'era ecco se guardate questa immagine a sinistra cosa vedete vedete che gran parte della copertura forestale di quell'area è data dai rimboschimenti di conifere un po' di querceto quello giallo formazione riparie è una parola grossa riparie nel senso in questo caso lì probabilmente c'era un piccolo impluvio un piccolo corso d'acqua ma piccolissimo che magari d'estate è anche asciutto nel nostro appennino ma che viene censito perché ha una diciamo presenza di specie un po' diverse viene censito come formazione riparie ma non è che siamo in un'area ripariale di pioppi salici e quant'altro insomma ok quindi ci fa capire che cosa che le aree che hanno bruciato di più cioè quelle 44,9 27,5 come vedete anche da questo grafico qua sono quelle dei rimboschimenti cioè rimboschimenti nei rimboschimenti abbiamo il massimo della severità media e della severità elevata questo è per due motivi uno perché le conifere sicuramente sono più combustibili cioè bruciano di più e più facilmente rispetto alla latifoglia ma anche perché i rimboschimenti sono diciamo così la la componente di maggiore superficie ok quindi quindi questo è poi tutto un'analisi che si deve fare quindi non solamente il discorso di intensità ma perché c'è quella intensità e a questi possiamo andare a vedere se in queste conifere in alcune zone erano già state per esempio diradate e altre se ci sono state delle differenze perché questa grande area di color magenta color rosa se vedete qua comprende sia rosso che giallo che nero allora perché qua c'è stata nelle zone esterne una maggiore una minore intensità perché magari lì è bruciato di meno perché il bosco era già diradato quindi ci sono stati meno problemi ecco sono tutti aspetti che poi dobbiamo verificare appunto con l'analisi anche a terra quindi non basta solo l'analisi satellitare che ci dà molte informazioni oggi ma va calibrata per farvi capire ecco quello che può succedere qui vedete noi stiamo seguendo appunto quest'area delle cesane foresta di maniera cesane provincia di Pesaro che nel 2017 ha avuto quell'incendio che avete visto nelle foto precedenti ecco questo qui che vedete a sinistra è quello che è successo è il risultato dell'incendio veramente un mese poco più di un mese dopo il passaggio del fuoco e qui vedete più o meno un anno dopo e due anni dopo cosa cosa osservate in queste immagini qui nella prima cosa si vede e i polloni che ricrescono questi qui davanti e qui perché non ci sono i polloni e probabilmente un pino non lo so un conifere questo è prevalentemente abbiamo visto un bosco di conifere pino nero allora qui cosa è successo il fuoco è passato da poco ha bruciato vedete tutta la massa epigea tutto quello che ha fuori il bosco ha bruciato gran parte delle piante sono morte molte sono morte in piedi alcune sono morte poco dopo non subito sono rimaste alcune anche diciamo magari non avevano il cambio completamente bruciato ma non ce l'hanno fatta sono andate in stress troppo troppo forte nel giro di pochi mesi la pianta poi l'abbiamo vista effettivamente perdere completamente anche quel po' di massa verde che era ancora rimasta ma il fuoco ha colpito anche la latifoglie questi qui che vedete sono ornielli anche questi erano piantati qui era stato fatto un impianto negli anni 50 o qualcosa anche prima i primi impianti anche negli anni 20 perché erano terreni che erano stati troppo sfruttati dall'agricoltura dal pascolo quindi anche attraverso dei gradonamenti sono stati fatti questi impianti ebbene il fuoco è passato qui vedete c'è tutta cenere a terra è stato asportato completamente tutta la lettiera quindi lo strato organico del suolo anche in parte però effettivamente cosa è successo che le latifoglie in questo caso hanno dimostrato di avere una capacità di ricaccio non voglio dire eccezionale siamo veramente ma qualcosa si è mosso perché perché l'apparato radicale evidentemente non è stato completamente interessato perché gli strati superficiali del suolo sì ma gli strati più profondi sebbene qui a profondità non è che sia molto elevata ma comunque bastano pochi centimetri 10-15 centimetri sotto lo strato organico che se diciamo le condizioni il fuoco non ha raggiunto quella e di solito non sempre lo fa non ha raggiunto quelle profondità l'apparato radicale in grado di diciamo così di continuare a a utilizzare a pompare acqua e nutrienti ed ecco che c'è questo piccolo riscoppio piccolo riscoppio che vedete ancora qua qui siamo l'anno dopo e l'anno dopo cosa vedete già vedete che le piante sono ancora in piedi morte bruciate se nessuno le butta giù quelle stanno finché non arriva il colpo di vento o altro però ecco che avviene vedete una così tendenziale copertura erbacea anche gli arbusti tendenzialmente andati anno dopo ancora ecco qua quelle qui piccoli vedete quelle che erano le piccole nuovi ricacci eccoli qua sono già dei piccoli cespugli di polloni dove il fusto principale spesso bruciato non si trova più e nell'arco di due anni questi sono alti 40-50 cm è prevalentemente orniello e poi quello che si trova è vedete qui siamo nel mese di luglio mi sembra verso la fine di luglio metà fine luglio quindi l'erba già un po' secca ma c'è una componente erbacea abbastanza importante quindi qui chiaramente siamo in una successione il bosco cioè questa non è comparabile questo che è successo a un taglio della della pineta perché con il taglio della pineta ci sarebbero state diciamo dinamiche molto diverse da queste quindi qui il sistema è completamente arretrato quindi questo quindi dobbiamo mantenerlo bene in evidenza che noi ragioniamo sulla fase finale sul mantenimento della fase finale di quelle fasi silvigenetiche interne ma queste fasi silvigenetiche possono essere messe diciamo a dura prova quando entrano in gioco purtroppo in questi ultimi tempi sempre più frequentemente questi disturbi di varia natura che fanno arretrare il boi quindi c'è la difficoltà di far tornare il boi vedete che qua non è nato cioè di nuovo non è nato niente il pino nero qui non si è rinnovato e perché non si è rinnovato se noi avessimo fatto un taglio qui nella pineta di pino nero noi avremmo ritrovato un taglio abbastanza ampio sarebbe ricresciuto la rinnovazione delle piante in piedi intorno produzione di seme sarebbe ricresciuto tranquillamente inadeguate diciamo superfici di intervento ma perché? perché qui ha bruciato tutto il seme anche e a differenza di altre specie come già vi dicevo il pino nero non è una di quelle specie che è in grado di disseminare fortemente e non apre gli strobili per far uscire il seme e per dare comunque una possibilità di rinnovazione come fa il pino d'Aleppo quindi tutto il seme è bruciato e quindi non si è prodotto niente e quindi chi è che ha vinto la rinnovazione le specie erbacee invasive che piano piano nel tempo a meno che non si vada a ripiantare di nuovo il pino ma sicuramente altre specie qui il bosco ci metterà probabilmente parecchio tempo a ripristinarsi nonostante la presenza di una cospicua massa diciamo arborea precedente ok quindi ecco in altri contesti quindi qui abbiamo visto un disturbo di un certo tipo di una certa rilevanza poi noi abbiamo già visto che in altri contesti magari anche naturali all'interno del bosco ci possono essere dei fenomeni dei disturbi di piccola scala e quindi qui ovviamente la caduta di un albero morto o quant'altro non fa altro che mettere a disposizione un po' radiazione solare e quindi di in qualche modo dar luogo a dei processi di rinnovazione di ricambio molto più diciamo così soft e non drammatici come quelli che abbiamo visto prima oh qui cosa vedete ve l'avevo già fatto vedere questa immagine questa e questa no cosa vedete quercete non lo so il taglio sono stati tagliati dagli alberi è stato tagliato in particolare una grossa pianta è una quercia le quercete intendevi le quercette con due t no con una non so con una siamo in un querceto siamo in un querceto questa in particolare è siamo in Umbria è una pianta di rovere e queste quindi queste non sono le roverelle perché le figlie della rovere la roverella è il quercus pubesciens e la rovere è il quercus petrea non il quercus robur perché il quercus robus è la farnia ok quindi queste sono delle piccole roveri oh qui la pianta è stata tagliata vabbè un piccolo telefonino insomma un walkie talk per anzi con gps per farci capire le dimensioni e qui si è aperto un gap e cosa è successo cioè vedete quello che normalmente succede in un processo silvigenetico se noi o se noi se una pianta matura vuol dire matura vuol dire di grosse dimensioni vuol dire che comunque ha anche una buona disponibilità di seme perché magari è una pianta dominante cade o viene eliminata potenzialmente sia materiale già caduto a terra proveniente dalla stessa pianta ma anche da piante circostanti la disponibilità di luce mette in moto il processo di rinnovazione ok e quindi tutta questa insalata qui sono roverelli scusate sono piccole roveri di uno due anni al massimo quindi già qui capiamo una cosa che un anno o due anni i polloni nelle specie nelle condizioni giuste si accrescono anche di un metro o due metri di un metro all'anno abbiamo detto un centimetro di diametro all'anno qui capite bene che cosa voglia dire per una pianta nata da seme i primi anni della vita vuol dire crescere con incrementi ridottissimi sia di altezza che di diametro per far arrivare queste ad un metro e mezzo di altezza e a due tre centimetri di diametro perché siano rilevabili di tempo ne può passare e capite bene anche che queste qui ci sono migliaia di individui in pochi metri quadrati che molte di queste sono destinate a sparire se pensate che questa pianta qua forse avrà avuto 100 120 anni non lo so non è facilmente ce n'era una lì sopra quindi questo è il rapporto mille migliaia a uno in un ambito che è quello dell'insidenza di una chioma ok questo è il processo silvigenetico questo è il processo silviculturale che noi dobbiamo garantire facilitare la rinnovazione laddove noi interveniamo se non facilitiamo la rinnovazione il bosco tende a rimanere un po' ma anche a rimanere più statico a non dare queste possibilità di rigenerazione e in alcuni casi può essere anche più suscettibile di disturbo era il caso di quella pineta mai aperta o aperta molto poco quindi grande densità di individui grande infiammabilità e assenza di aree dove c'era la rinnovazione ok quindi l'intensità è stata forte il danno è stato diciamo danno diciamo momentaneo poi i sistemi si recuperano però pensate anche in termini diciamo così di utilizzo quell'area di quella pineta che era un'area chi è della zona del pesarese sa benissimo quella foresta delle cesane è una delle aree più battute dai cicloturisti di tutti i tipi ci sono dentro percorsi di vario tipo più facili più difficili quindi per due tre anni questi boschi bruciati hanno fatto perdere quel po' di economia a quell'area perché poi sta gente che ci passa che ci va si ferma fa insomma un minimo quindi quelli sono danni diciamo indiretti da un punto di vista ecosistemico sicuramente il bosco riprende ma riprende abbiamo visto anche con una certa difficoltà ecco non è questo il caso quando noi facciamo degli interventi servicolturali che ci dovrebbero portare a questo tipo di situazione ok qui siamo nella fase appunto di una pianta matura stramatura la utilizziamo e dobbiamo garantire questo è l'obiettivo questo è l'obiettivo quando facciamo questo tipo di interventi avere in testa il processo civigenetico è l'importanza di garantire una continuità al bosco cosa non facile perché noi dobbiamo cercare di garantire situazioni che si esplicheranno fra 30 40 50 60 anni quello che il lavoro al forestale è difficile rispetto a quello dell'agronomo che ragiona al massimo per culture annuali biennali o al massimo per 10 anni di un fruttetto i fruttetti oggi di quelli industriali durano 10 15 anni forse neanche ok quindi stiamo arrivando verso la conclusione noi quando ragioniamo sulle dinamiche che avvengono che avvengono che avvengono nei sistemi naturali noi dobbiamo sempre pensare a questi processi che avvengono di azione e reazione disturbi che avvengono a diverso livello e alle successioni poi però quando entriamo vi ricordate in quell'immagine di prima entriamo nella foresta definitiva cioè quando entriamo in quella fase finale è lì dentro che si esplica diciamo così si esplicano i processi silvigenetici ok quindi è lì dentro che noi valutiamo se quella determinata popolazione quella determinata comunità si trova in una fase di rinnovazione si trova in una fase di crescita che va verso il bosco giovane arriviamo a quella fase ottimale in cima alla curva arriviamo a una fase di vecchiaia stiamo scendendo e arriviamo alla fase di crollo si aprono le rampe radure diminuisce la biomassa la necromassa che aumenta oggi poi la necromassa una volta non valeva niente perché era tutta legna che si prendeva e si portava nel camino oggi invece spesso bisogna lasciarla in campo quindi si aggiungono le conoscenze ci dicono guardate che se vogliamo mantenere la biodiversità quella specie dobbiamo lasciare anche legno morto e lì si aprono le discussioni fra i forestali di una volta assolutamente legno morto si brucia si dà combustibile ci sono come sempre via di mezzo e va visto caso per caso in una faggeta avere del materiale del periente non è nessun problema è chiaro che è in un'area molto soggetta al fuoco più legna secca lasciamo soprattutto di piccole dimensioni e più questo diventa un problema quindi dobbiamo sempre non ragionare per luoghi comuni ma cominciare a distinguere piano piano ok quindi qui dentro queste sono le fasi selvigenetiche quindi queste fasi definite così a livello generale vedrete che nella selvicoltura soprattutto nella selvicoltura dei boschi coetanei assumeranno delle denominazioni ben precise lo stadio per esempio di novelleto lo stadio di spessina di perticaia di fustaia giovane di fustaia matura e stramatura quindi arriveremo a quello ok qui ci sono delle immagini fondamentalmente che ci fanno però capire qualcos'altro perché noi adesso abbiamo ragionato su un popolamento coetaneo assumendo che appunto questo popolamento come era il rimboschimento di conifere vada tutto per conto suo senza possibilità di interazione in realtà in natura le cose sono più complesse perché qui cosa vedete per esempio forse qualche immagine l'avevamo vista però ho ripetito a Juvent io ve le scorro rapidamente queste sono angolazioni diverse ma sono tutte all'interno della stessa foresta fondamentalmente è come se io facessi un giro a 360 gradi e faccio una foto ad ogni angolazione più o meno trovo che cosa mi fanno capire queste 4 o 5 immagini dove mi trovo non geograficamente che tipo di foresta ad evoluzione naturale ad un'evoluzione naturale perché perché c'è tanta necromassa e tanta rinnovazione comunque abbiamo già messo in evidenza due cose importanti tanta necromassa tanta rinnovazione poi voi avete mettete un po' a frutto alcuni ragionamenti sulla struttura che poi dopo amplieremo ormai la prossima volta perché l'orario è finito un bosco di setanio anche quindi più che di setanio di setaniforme di setaniforme intanto poi la disetanità sicuramente c'è comunque qui avete notato grandi differenze ma che non è una disetaniformità è abbastanza irregolare vedete ci sono zone in cui ci sono nuclei di rinnovazione come questo e abbiamo zone con ecco uno stadio vedete questo qui sempre un nucleo ma in una condizione più avanzata un po' ci ricorda vagamente alcune cose che abbiamo visto anche a Camaldoli lì a Laverna soprattutto poi però ci sono altre aree vedete in cui sembra che ci sia una maggiore omogeneità vedete qui un'area in cui ci sono parecchie piante abbastanza filate quindi tutto molto molto irregolare quindi questo ci fa capire che soprattutto dove ci sono condizioni di naturalità queste non sono foreste vergine nel vero senso della parola ma sono probabilmente foreste che non vengono utilizzate da qualche secolo due trecento quattrocento anni abbastanza rare in Italia anzi rarissime se non piccoli spot sono quelle foreste cosiddette foreste vetuste che troviamo ancora in qualche zona dell'Europa orientale nei Carpazzi in particolare nelle Alpi Dinariche eccoli qua e quindi ci fanno capire che quella in realtà quella curva silvigenetica che abbiamo costruito all'inizio in realtà qui dentro ce n'è diverse cioè ogni micropopolazione che si innesta in seguito a un disturbo a un piccolo disturbo qui vedete che non ci sono e poi le analisi lo hanno confermato non ci sono stati degli eventi catastrofici come un incendio o come una valanga diciamo estensiva ma qui c'è questo è il frutto di una dinamica naturale fatta di tanti piccoli gap di tanti piccoli micro disturbi che creano condizioni di ingresso di gruppi di piccole comunità di piccole cohorti non di cohorti ma con due o cohorti vuol dire nuclei che hanno fondamentalmente della stessa generazione e che possono caratterizzarsi su fasi diverse quindi qui troviamo una situazione molto più eterogenea e che quindi sarebbe richiede capite bene anche degli interventi diversi perché in un bosco come quello di prima omogeneo coetaneo e tutto quanto quando tutto il bosco sappiamo che è arrivato ad una certa soglia noi possiamo anche ipotizzare se quel bosco è un bosco di produzione anche un intervento finale perché tutto il bosco è arrivato a maturità qui dentro la maturità viene raggiunta in maniera molto disforme da uno e dall'altro quindi ci saranno dei nuclei giovani dei nuclei intermedi dei nuclei vecchi quindi questo eventuale intervento qui dentro nell'ipotesi queste ormai sono dei santuari fondamentalmente non si fa niente perché vengono lasciati proprio la naturalità ma se si dovesse fare qualcosa non potrei sicuramente applicare un modello culturale estensivo su tutta la superficie perché la superficie è assolutamente disomogenea e quindi entra in gioco tutta quell'altra parte della servicoltura che è la servicoltura dei boschi disetanei ok quindi già qui abbiamo messo in campo due aspetti boschi coetanei o coetaniformi e quindi che possono essere sia cedui che fustaie ok e che vengono gestiti con una con delle modalità ben precise ma molto diverse da quelle dei boschi disetanei dove la maturità viene raggiunta individualmente da alcuni individui o da alcuni piccoli gruppi ma contestualmente ci sono individui in fase di rinnovazione in fase di fase ottimale in fase decadente senescente e quant'altro qui eravamo in Bosnia old growth ecco boschi vetusti questo è un bosco misto di conifere latifoglie c'è faggio c'è abete bianco c'è abete rosso e anche altre specie ovviamente quelle principali sono queste ok e questi sono ormai dei riferimenti perché perché effettivamente qui dentro vediamo il comportamento delle specie nel lungo termine qui possiamo vedere i processi di rinnovazione quando si apre una gap se se ne va a un faggio cosa fa rientra il faggio rientra la vete quali sono le dinami qual è la velocità di risposta di raggiungimento delle dimensioni diciamo così ottimali per superare la fase di rinnovazione quindi uscire dall'ambito del danneggiamento da parte degli ungolati e così via quindi queste sono ecco tutte le premesse che la prossima volta cercheremo anche di sintetizzare meglio in alcuni un paio di schemi che ci faranno vedere appunto questi processi di silvigenesi sia all'interno di una foresta boreale che all'interno di una foresta temperata con e senza la diciamo così il disturbo catastrofico quindi ragionare sempre in queste differenze fra disturbo e silvigenesi ricordando sempre appunto che si tratta di due ambiti diciamo così in certo modo simili ma distinti ok io mi fermerei qua però già tutta la 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 presentazione che comprende anche la parte della prossima volta spero di chiuderla c'è diverse cosette ma alcune cose le abbiamo già viste in campo quindi dovrebbe essere abbastanza semplice rivederle e quindi l'idea è giovedì di concludere questa parte silvigenetica e struttura e così poi essere pronti per il passo successivo ok ok fino a qua ci siamo e vediamo ecco intanto chiudiamo la registrazione e ecco ecco Grazie a tutti